Buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina, parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nel corso dei prossimi giorni, quando a seguito dell'arrivo della forte ondate di gelo russo-siberiana nelle prossime ore entreranno le termiche più crude, infatti avremo l'entrata della termica meno 12, meno 16 sulle alpi di confine, una meno 8, meno 10 praticamente su quasi tutta l'Italia, tali termiche porteranno precipitazioni solo al sud Italia, infatti tra Sicilia e Calabria soprattutto sulla Sicilia centro-meridionale grazie alla formazione di un minimo depressionario molto intenso e di un ciclone mediterraneo extratropicale avremo precipitazioni abbondantissime che visto le termiche negative saranno ovviamente a carattere nevoso a ogni quota, soprattutto fino a 2-300 metri, nevicate molto abbondanti soprattutto tra le colline e i monti con accumuli fino a 3-4 metri nei comparti dell'Etna, mentre su quasi tutta l'Italia splenderà il sole con minimo sotto i meno 10 gradi.